Una città antica, conosciuta in tutto il mondo per la sua storia. Una città che ha saputo rinascere dalle sue ceneri. Una città dove le abitazioni, le mora, le strade raccontano la vita degli abitanti. Una città che non solo ha resistito, ma non è mai stata dimenticata. Tra criptoportici, scorci, affreschi, sarà emozionante scoprire e vivere la città che sta a catturare il cuore dei turisti. Pompei, una città da vivere, ancora una volta.